Il PDL ha scelto che la candidatura di Storace va bene come candidatura per la presidenza della Regione Lazio. Questo ha suscitato i vostri malumori per la persona o per il metodo che è stato utilizzato? Sicuramente per il metodo perché io me ne sono andata dal Popolo della Libertà e noi ce ne siamo andati dal Popolo della Libertà proprio perché per non dover più subire decisioni che vengono prese fra due telefonate, che vengono comunicate a mezzo Twitter, che vengono cambiate dal giorno alla notte senza che le persone siano state riunite. Noi eravamo stati interessati sulla candidatura eventuale di Beatrice Lorenzin che era a mio avviso un ottimo candidato, una persona giovane, capace, radicata sul territorio, che avrebbe anche dato un segnale di discontinuità. Eravamo fermi a quella scelta e da un giorno all'altro ci si è comunicato che il candidato sarebbe Francesco Storace. Niente contro Francesco che è un amico, che è una persona che sicuramente ha una storia straordinaria, che conosce molto bene la regione Lazio, però bisogna rivedere tutto e ridiscutere tutto per un problema di metodo perché non me ne sono andata dal Popolo della Libertà per poi dover sottostare con un altro movimento ai metodi del Popolo della Libertà e nel merito perché vogliamo capire i programmi, la candidatura, bisogna discutere tutto. Lei si candiderà perché questa è la voce che è stata diffusa nelle ultime ore? È evidente che o c'è una condivisione oppure saremo costretti a fare un'altra scelta. Non escludiamo neanche che Fratelli d'Italia possa esprimere una propria candidatura che segnatamente potrebbe essere la mia. Dipenderà dal confronto delle prossime ore.